Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Un nucleo freddo in quota in discesa da nord sull'area adriatica rinnova condizioni di instabilità sulla Liguria, favorendo rovesci e temporali sparsi fino alle prime ore di domani sabato. La successiva ripresa della pressione unita a un flusso settentrionale garantirà il ritorno di cielo sereno al più poco nuvoloso da sabato pomeriggio fino almeno a lunedì. Il dettaglio oggi, venerdì 17 luglio, condizioni di diffusa instabilità più marcate sul Levante con probabili rovesci e temporali sparsi nell'interno in successivo spostamento verso la costa. Non si escludono fenomeni forti, venti deboli e prevalente regime di brezza, mare in aumento a mosso, Levante poco mosso altrove, temperature massime in aumento lungo la costa tra 26 e 28 gradi, nelle zone interne intorno a 26 e 27 gradi. Domani sabato 18 luglio fino alle prime ore del mattino residua instabilità con sviluppo di rovesci o temporali più probabili sulla fascia costiera di centro ponente, progressive schiarite già nel corso della mattinata, mentre sui rilievi al pomeriggio saranno ancora possibili locali fenomeni convettivi specie sulle Alpi Liguri. In serata cielo ovunque sereno, venti deboli e moderati settentrionali fino al mattino, poi a regime di brezza con rinforzi sulla costa da sud ovest a ponente, da nord ovest a Levante, mare in aumento a mosso al mattino, in calo a poco mosso nel corso del pomeriggio. A partire da Levante, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 19 e 21 gradi, nelle zone interne tra 14 e 18 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 25 e 27 gradi, nelle zone interne intorno a 26 e 27 gradi. Dopodomani, domenica 19 luglio, sereno su tutta la regione a parte qualche locale addensamento pomeridiano sui rilievi e in serata sul Savonese, venti deboli a regime di brezza fino a metà giornata, poi deboli o localmente moderati in prevalenza dai quadranti meridionali, mare poco mosso, temperature minime in diminuzione lungo la costa intorno a 19 e 20 gradi, nelle zone interne tra 14 e 16 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 26 e 28 gradi, nelle zone interne tra 25 e 27 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'Agenzia. Buon fine settimana a tutti!